Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra lo svincolo della 1 di Firenze in Pruneta e San Casciano Nord in direzione Siena. Sulla Grosseto Fano, chiuso svincolo per lavori nel tratto tra Monte San Savino e Montagnano in direzione San Zeno. Sulla statale 1 Aurelia senza unico alternato per lavori nel tratto compreso tra l'incrocio di Scarlino Scalo e quello di Stagno. Sulla statale 223 di Paganico, divieto di transito per i veicoli di lunghezza superiore a 10 metri tra Bagnaia e San Salvatore Appilli in entrambe le direzioni. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!